buon pomeriggio a tutti ragazzi e con questo video parleremo del settimo episodio di banana con ne vedrete due video e poi un nuovo episodio di angry dragon ogni venerdì e e poi che cosa c'era dopo angry dragon a si l'era glaciale giusto l'era glaciale l'era glaciale domani angry dragon angry shark evolution e penso che non ci sia niente beh vi auguro una visione per questi due video di banana con prima caricherò questo e poi vediamo ok la visione aspettate eccoci qui ragazzi ma dobbiamo alzare il volume aspettate devo vedere che emissione degli alberi 15 volte a una tartaruga va bene no non ho le banane ci deve essere una diana banana con banana con ciao 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 a a lasciare che pareva e sono sbattuto contro una roccia Un attimo che stoppo raga Vai Banana Kong Vai King Kong Lo chiamo King Kong D'accordo ragazzi Banana Kong è il gioco Un attimo 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 ragna ma avranno morso a con i pirani a Le rane mi danno conforto aiuto. Aspettate ragazzi che... Va bene possiamo andare. Ora la troveremo ovunque che l'abbiamo potenziata. Scendiamo. 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 più di 5 abbiamo fatto ma nana come uh oh a 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 volevo saltare sul fiore 5 a a a a a a a a no no 3 3 Avevo ragione no? Avevo ragione Oh oh Meno male che Tucano mi salva Grazie Tucano Mi ha lanciato con tutta la sua potenza 2 2 Non era quello che volevo Ne manca una ragazzi Una liana da qualche parte ci deve spurese Purese Meno Una Quasi Quasi T 죽 Ora è il tunnel ragazzi Sembra se lo trovo No c'era Pazienza sarà il prossimo Il coccodrillo mi ha mangiato Questa è la morale Potenziamo poi la giraffa la prossima volta Ok ragazzi E direi che il video si possa concludere qui Di Banana Kong il settimo episodio Beh ragazzi spero che questo video Di Banana Kong il settimo episodio Hup 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 Kong Mi sia piaciuto Iscrivetevi al canale Mi raccomando Mettete un bel like Seguite su Instagram Non dimenticate di cliccare qui Per iscrivervi al canale E qui e qui Per non vedere gli altri episodi E cadere al vostro world benditri Noi ci vediamo al prossimo episodio Ciao a tutti